abbiamo suddiviso l'erotismo in trasgressione e perversione vogliamo fare questa differenza? l'ho appena fatta l'ho appena fatta perché la perversione è l'erotismo malato la perversione che poi non è solo una perversione erotica perché una persona può essere una persona perversa quando eccede in qualche cosa e quando fa del male o come vi ho detto a se stessi o agli altri per esempio ci sono delle espressioni che noi usiamo molto spesso in psicologia una di queste è il masochismo chi è il masochista o chi è il sadico il masochista o il sadico sono persone che fanno male a loro stesse o agli altri ed eccedono e allora sono perverse così come la pedofilia per esempio così come tante cose che noi condanniamo ma è normale che si condannino queste realtà perché sono delle realtà malate persone che vanno curate persone che vanno seguite persone che vanno comunque accudite in un certo qual modo mentre quando appunto tu dicevi che differenza c'è l'altro aspetto è un aspetto piacevole della vita perché ognuno di noi si esprime come meglio sa poi studiando se stessa, analizzando se stesso cercando di leggere, di parlare e di incontrare anche altre persone si scoprono certe realtà e certe situazioni io ricordo sempre un filosofo che è stato un filosofo molto importante per il mio, del 1800 ormai non si dice più il secolo scorso ma non lo faccio più i secoli che è Kierkegaard, Soren Kierkegaard che ha scritto un'opera che si chiama La Out Out il dolore dell'esistenza lui è stato il fondatore poi in effetti il padre fondatore dell'esistenzio il dolore dell'esistenza il dolore nostro dell'estero il nostro stato di angoscia ci può portare perché la scelta, la scelta di una vita che può essere una vita come lui dice estetica quindi fondata sull'apparire può essere una vita etica fondata invece su un modo di essere che è quello del marito, del buon lavoratore eccetera, oppure una vita religiosa ma ognuno ha una propria scelta di vita quindi non sono da condannare né da perseguire in modo è da perseguire solamente il dolore bisogna cercare di evitare e di non soffrire e di non far soffrire gli altri in quel caso forse va a finire il terreno un po' della patologia in quel caso si finisce nella patologia per questo io prima parlavo della pedofilia parlavo del masochismo o del sagginismo comunque vorrei aggiungere se posso poi dimmi se non sei d'accordo mi interessa molto il punto di vista poi alla fine di una professionista che si occupa di questo sulla questione invece della trasgressione perché io spesso mi capita insomma di parlare della questione dei tabù sessuali no? allora siccome ho questa insomma questa condanna del bicchiere mezzo pieno allora anche i tabù ho voluto sforzarmi di vedere il lato positivo dei tabù allora la cosa che mi sono detta è che finché ci saranno tabù in qualche modo da scoprire che appunto sono tabù e non gusti sessuali perché una cosa è il gusto e una cosa è il tabù magari imposto dal di sopra e dall'esterno la cosa bella è proprio che l'esistenza dei tabù ancora oggi ci consente di godere dell'appunto del piacere della trasgressione cioè finché c'è un limite che non è nostro perché non è un nostro gusto noi siamo tutti diversi e non ci può piacere tutto per forza quindi ci sono cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono però finché c'è il tabù esiste in qualche modo un campo ancora da esplorare di cose di prime volte di nuove prime volte che chissà che non svelino qualcosa che invece una scoperta magari anche in tarda età di qualcosa che ci piace e ci fa palpitare sei d'accordo? il tabù muro di Berlino dell'erotismo praticamente vedremo un po' se possiamo pensate a quello che ha scritto Freud Freud ha scritto un'opera che si chiama Totem e il tabù ecco ora il tabù e il tabù solitamente quando si parla di tabù si parla di tabù sessuali in questo caso ecco uno dei grandi tabù della storia è la verginità l'altro e la masturbazione ai bambini dicevano che andavano a confessarsi dicevano ai ragazzini insomma adolescenti dicevano che la masturbazione li faceva diventare ciechi che la masturbazione li portava gravi malattie quando invece il piacere Freud stesso lo dice il piacere di farsi del piacere è una scoperta è una crescita per noi perché la forza della libido la forza di questa spinta che è una spinta sessuale che è una spinta alla vita poi oltretutto perché noi non dimentichiamoci che la sessualità è vita e che la mancanza di sessualità è mancanza poi di vita in realtà perché non non abbiamo questa comunione con gli altri comunque il tabù ha ragione lei ogni tanto qualche piccolo tabù cambiano perché cambiano poi con la cultura cambiano con le abitudini cambiano col sociale tu hai fatto sociologia e quindi ogni realtà e ogni ambito sociale ha i propri tabù perché prima tu stavi parlando anche di cose abbastanza dure e difficili da digerire che in un mondo come il nostro oggi ancora esista la pena di morte ancora esistono certe situazioni e certe situazioni estremamente gravi però esiste anche la chiesa che impone dei tabù molto poi ne parleremo sicuramente ci sono e ce ne sono tanti purtroppo ancora oggi comunque c'è da dire che però tabù negativi la chiesa impone i tabù da una parte però poi in qualche modo li favorisce in qualche modo da un'altra parte quando non conviene andarli a toccare però comunque indipendente la ricerca della sessualità scusa se ne vogliamo parlare dopo se ne parleremo fra pochissimo perché tra l'altro c'è la pubblicità c'è il GR che incombe comunque per il discorso dei tabù poi lo approfondiremo naturalmente e poi comunque i tabù man mano che si va avanti proprio come dicevi appunto tu prima e poco anzi che cambiano si abbattono naturalmente anche con l'evoluzione sociale ambientale spettante mentale e perciò le cosiddette barriere dei tabù le barriere come il senso del pudore si allargano si ampliano in qualche modo e perciò a questo punto prima di però prima di io volevo un attimo non l'ho mai fatto la prima volta lo volevo far sentire la testimonianza di un uomo il nostro regista primo regista lo chiamerei che è Giuseppe Giuseppe Savoca appunto su questo argomento porno e romantico possono possono in qualche modo andare d'accordo a prima chitta proprio al volo così ma sicuramente 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 possono andare d'accordo l'erodismo è un'arte secondo me come dicevano loro è un'arte che va scoperta e va tirata fuori piano piano ce l'abbiamo tutti alla fine è come non lo so il bambino che impara a giocare l'adulto poi impara a tirare fuori la parte erotica che ha dentro e che niente questo qua bene grazie Giuseppe ti posso dire cosa penso dei tabù dopo il GR parleremo solo dei tabù no questa tribù parlerà dei tabù perché mi ha fatto la tribù ormai oggi benissimo passiamo la linea Giuseppe dopo questo intervento grazie adesso fare intervento tecnico e facci ascoltare il GR vai Vicky è stata con un solo ragazzo da quando siamo stati insieme perciò io rappresento il 50% di tutte le sue relazioni con i maschi sei proprio un bel coglione figurati se è stata solo con un ragazzo è stata perlomeno con tre cosa? quando una ti dice con quanti ragazzi è andata a letto moltiplica per tre è quello il numero reale ma voi al college non avete imparato un cazzo se quello è andato a letto con tre ragazze io sono stata con James Brown e tutto il suo gruppo più 24 orchestra con la testa a fungo e i pantaloni a zappa ok? non è possibile Kevin non è stato a letto con tre ragazze la Michigan perché dovrebbe mentirmi? non è una bugia è un aggiustamento la regola del tre la regola del che? del tre se un ragazzo ti dice con quante ragazze è stato non dice la verità tu prendi quel numero lo dividi per tre e hai il vero totale state ascoltando Radio Roma e l'applauso non era per noi chiaramente era per Pino Daniele da cui abbiamo ascoltato a ruota dopo il GR naturalmente la canzone che è scelta sempre da Carolina Cutro ricordiamo autrice di porno romantica stiamo parlando appunto dell'accostamento di queste due parole che apparentemente sembrano che non non siano conciliabili e invece secondo la teoria poi di Carolina che poi si è sviluppata che poi si è sviluppata